Ciao a tutti cari amici del segno del sagittario, eccoci qui in mia compagnia per conoscere le vostre previsioni di oroscopi per la settimana che vadano di 6 a domenica 12 giugno 2022. Perché se fosse perso le previsioni di oroscopi di giugno 2022 trovate tutti i video nella playlist dedicata agli oroscopi mensili. Quindi se vi siete persi gli oroscopi di giugno del vostro segno solare del sagittario vi invito a visionarli. Vi ricordo che quelle sono energie generali quindi non possono avere per tutti voi del sagittario. Per quello vi invito a optare per i miei consulti privati di cartomanza, vi lascio qui sotto tutto nel box di informazioni. Lasciatemi un like, un commento, un feedback e iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Cliccate su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video ed aggiornamenti futuri. Benissimo, incominciamo a mettere giù le carte per voi del sagittario. Carta 89, il karma. Abbiamo la carta del 10 di denari. La carta 1 del mago. Uomo con capelli bianchi. Visto che è uscito l'uomo con capelli bianchi, che è una figura, andrò poi a estrarre un'altra carta dei tarocchi. E poi la carta numero 1 del destino. Vado subito a capire un attimino questo uomo con i capelli bianchi. Ed è uscito questo, è uscita la carta della morte numero 13. Ok. Allora, cari amici e amiche del sagittario. Diciamo che si prospetta una settimana decisamente interessante. Sicuramente il destino, il karma sarà dalla vostra parte. Perché è uscito sia la carta del karma, come inizio, ma anche la carta del destino, questa chiave. Numero 1, numero 1. Quindi qui sicuramente ci saranno dei nuovi inizi a 360 gradi. Qui secondo me i nuovi inizi possono essere soprattutto da puntista familiare, materiale, quindi da puntista anche di case, di soldi, di lavoro. Ma potrebbe esserci anche un qualcosa che vi lega a questo uomo con i capelli bianchi. Ok. Qua va bene, l'indicazione è proprio una persona maschile con i capelli bianchi o grigi. E poi andiamo a capire meglio ricollegandola alla carta della morte. Comunque qui sicuramente potrebbe esserci proprio il fatto che una situazione destinata a voi, quindi qualcosa che era già scritto, si paleserà. Sarà una settimana molto molto bella. Una settimana in cui ci sarà anche del benessere immateriale. E' una settimana in cui in alcuni casi potreste vincere anche al gioco dell'otto. Quindi però mi raccomando, giocate sempre con moderazione. I numeri che potete giocare durante questa settimana e teneteli giocati per almeno 3-4 volte, sono il numero 89, il numero 1 e il numero 13. Il numero 1 più di tutti perché è uscito 2 volte. Poi l'89 e il numero 13. C'è secondo me area di trasformazione, di cambiamento. Ok. Potrebbe essere anche un cambiamento e una trasformazione in un rapporto con questa figura maschile. Oppure in alcuni casi qualsiasi uomo con i capelli bianchi. Potrebbe essere il padre, il nonno, una figura di riferimento, il marito, il datore di lavoro. Ok. Qui potreste in alcuni casi è proprio cambiare la tipologia di rapporto. Potrebbe esserci una trasformazione, un'evoluzione. Oppure in alcuni casi alcuni di voi finiranno il rapporto che avevano all'attivo con questa figura. Che ripeto potreste trovarla nella sfera dell'amicizia, dell'amore, da puntista familiare, da puntista lavorativo. Dipende ovviamente dalla vostra situazione personale. Qui se volete costruire qualche fondamento potete costruirlo anche ovviamente nei rapporti. Non solo professionale ma anche di amicizia ma soprattutto amorosi. C'è comunque stabilità, c'è solidità, la costruzione di una casa. Oppure anche il fatto di ampliare la vostra cerchia familiare e trovarsi comunque bene in famiglia. Ok. Quindi qua vedete quanti soldi. Mi raccomando però non giocate troppi euri perché potreste perderli. Però diciamo che le energie sono a vostro favore. Qui sicuramente con la carta del mago. Il mago è proprio la manifestazione. Potete manifestare comunque i vostri sogni nella realtà. Potete concretizzare molte cose durante questa settimana. Infatti qua c'è scritto. Puoi realizzare qualunque cosa. Assumi il controllo della tua vita. Sei in grado di manifestare ciò di cui hai bisogno per aver successo. Ok. Quindi è importante, visto che avete tutti questi strumenti a disposizione, potete manifestare apertamente quello che volete. E molto probabilmente lo attrarrete a voi. Qui ripeto, soprattutto in ambito professionale ed economico, anche dei soldi che vi arrivano, un prestito che verrà concesso. Oppure, se qualcuno doveva rendervi dei soldi, o doveva prestarvi dei soldi, qua c'è la possibilità, con questo 10 denari, di manifestare anche questa cosa. Qui ripeto, una situazione del destino che comunque si farà avanti. Una situazione molto molto importante che potrebbe anche cambiare in qualche modo l'assetto della vostra vita. Ok. Quindi c'è comunque anche abbondanza e sicurezza in voi stessi, anche una sicurezza materiale. Poi qui avete la chiave del vostro destino in mano, è una carta di fortuna, di successo. È importante decidere perché avrete proprio voi, e non gli altri, questo potere decisionale. Siete voi che dovete capire se continuare per quella strada o se modificare, almeno in parte, il vostro cammino. Ok. Siete comunque padroni della vostra vita. Ok. Avete tutte le potenzialità, tutti gli strumenti per costruire la vita che avete sempre desiderato. C'è la possibilità anche comunque di risolvere eventuali problemi, anche da puntista economico o lavorativo. E quindi il destino e quindi tutta la parte della fortuna si vanno a creare. E avete proprio la chiave per aprire quella porta. Avete piena coscienza, piena potenzialità di quello che vi sarà per accadere o comunque che vi accadrà a breve. Quindi sfruttate comunque questa onda positiva, onda di fortuna, onda di successo anche per iniziare qualcosa di nuovo. Un qualcosa che avete sempre sognato ma che magari non avete avuto il coraggio fino adesso di manifestarlo proprio nel mondo reale. Ok. Quindi queste comunque sono carte molto molto belle. Ok. Ripeto, per quanto riguarda questa figura maschile, le carte dicono che potrebbe essere proprio un uomo con i capelli bianchi, quindi un uomo magari di una certa età, un uomo più grande di voi, una persona di riferimento. In questo caso cambierà un qualcosa, si trasformerà anche il rapporto ovviamente nel bene e nel male. Questo dipende molto dal vostro approccio e da che cosa deciderete voi di fare perché voi siete gli artefici del vostro destino, mi raccomando, non gli altri ma voi stessi. Ok. Benissimo cari amici del Sagittario, queste sono le vostre previsioni e vi aspetto sempre qui sul Taromè. Ciao a tutti e alla prossima.